C'è mancato di rispetto, cazzo al cazzo, ci fate cacare senza specificare niente se avesse scritto. Io ho sentito molti che scrivono in questi commenti, ho provato ieri a Spacca Napoli, ritengo che gli hamburger non sono nulla di eccezionale, è la grande zona. Niente, cioè facevate delle critiche, magari vi avrebbe dato pure l'agile, avrebbe detto comunque a Spacca Napoli stavo ancora cercando di trovare una strada. Grazie.